Preghiera del mattino Signore, Tu conduci chi Ti segue nel deserto per parlare al suo cuore e per nutrirlo di un pane essenziale. La moltiplicazione dei pani è il segno e l'annuncio del grande mistero del Tuo corpo, offerto e diviso fra tutti gli invitati. Il popolo Ti ha seguito come un tempo aveva seguito Mosè al di là delle acque della morte. Tu fai scendere per Lui la manna dal cielo per i loro corpi, preparando così i loro cuori al miracolo più grande compiuto dal Tuo amore, al miracolo che rinnoverai costantemente nell'Eucaristia fino a quando entreremo nel Regno. Amen.